Caro papà Natale, ti ricordi di me? Sono Margherita, quella bambina con i capelli rossi, beh ormai diventata grande, che tutte le vigiglie tirava fuori dalla credenza il minuscolo servizio di porcellana per le bambole, vi metteva dentro alcune leccorni, sacrificata la sua golosità, e vi apparecchiava in salotto vicino all'albero di Natale che faceva tutti gli anni con il suo papà. Quella stessa bambina che la sera del 24 dicembre accompagnata dalla mamma andava nel suo soffice caldo lettino attendendo sognante e piena di speranze i doni che avrebbe scartato l'indomani sotto lo sguardo malizioso e complice dei suoi genitori. Cosa ti chiedevo allora? Beh piccole cose, una bambola di pezza, qualche caramella, magari una sciarpa da regalare al papà o un paio di guanti per la mamma. Allora non capivo che ciò che mi rendeva felice non era tanto la consistenza del regalo quanto l'attesa del dono stesso.